Ciao a tutti Cosa uscirà Menti paura Voglio vedere cosa esce fuori Ma più che altro sta con me per tifare in un opening pack Ragazzi il secondo del Road to Division 1 Come promesso dalla divisione 10 Siamo andati alla divisione 9 E quindi ora facciamo un opening pack Per rinforzarci un po' la squadra Secondo di chi possiamo trovare Io spero di trovare Neymar A partire a Bombaosi Vediamo qua il nostro Chi è questo Chi c'è da Chi c'è da Cileno Ma chi è Orellana Ragazzi è un buon giocatore Chi è? Carnesis Andiamo al prossimo video Ecco il prossimo Orellana Vai di aprirlo Tico io A un fifa Poi inserito Stanno anche Vai te prego Spera La porta 23 23 Brucio le culo Aiuta C'è te Vedete un po' che esce fuori Portiero No Oddio Portiere Tedesco Triggeros Mai sentito ragazzi Di 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 La stazione Atraverso Di La stazione Estorare Andiamo Il tetto Il prossimo Pacchetto Eccoci Eccoci La Cazzetta La Cazzetta Ci farà Mazzetta Tanto Sto Scalzo Sto Scalzo Sto Scalzo Sto C'è No Mamma mia Ancora portiere Tedesco Danilo Danilo Amichetto mio Potrebbe essere un buon difessore centrale Vediamo un po' se riusciremo a inserirlo poi nella squadra e talisca talisca melura sempre sulla sabbia se ne va non era quella vabbè andiamo avanti Clementino oh apre lui Aguero apre lui Aguero vediamo un po' che esce fuori mamma lo faccio per te è buona è buona è buona è buona ma che cazzo è buona Tomovic buona il cazzo mannaggia è buona no no Lacomte e Duson mazza che parla andiamo avanti andiamo avanti oh piccole puzza si si porta allo scoperto dai yeah allora tu hai levato la maschera ma io non guarderei adesso non guarderei non guardiamo non guardiamo mi vergogno è buono è buono Daniel ma che è buono è buona il cazzo è anche un doppione camarada guarda che capelliccia questo mamma mia andiamo avanti insieme allora proviamo insieme gli ultimi due pacchetti poi non ci ho buoni 3 2 1 via 3 3 2 1 via bravo no ma tu prendi cerchio fa culo paura adesso prendi cerchio torna indietro Aguero 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 portamene uno forte oddio oddio ma è buono è buono ma è buono cazzo quello che c'ha più tutti cavolo vabbè dai 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 che è Andreoli Carlo Molinaro e chi sei e chizza vabbè andiamo avanti l'ultima l'ultima te la faccio giocavamo se la ne ha dato un attimo dispari pari 1 2 3 e dai ho vinto io da porta mo' bono ecco vaffanpura Arslan bene Ken non ho preso nessuno vabbè ragazzi ma sa quanti contratti ho preso sono tutti i miei i giocatori vabbè sono 4 vogliamo fare un saluto spero vi sia preso il video ci è andata male a parte Hernanes e condividete mettete like da cricco e puzza vergogna ecco se vergogna da cricco e puzza da lei e tutto quanto ciao belli ciao ragazzi ciao